Il mio fratello dice che ha fatto un casino, che ha fatto scoppiare un incendio. Ma dice come vanno a mettere in galera? Io vorrei domani col treno. Diciamo che hai qualche problema di inserimento nella società. Ma ci stacco la testa? Beh, a modo suo. Sei cresciuto, eh? Mazza, ma che hai combinato? Ma ce l'hai a TV? Dobbiamo parlare di incendio e di tua follia. Col cazzo. Ho prisione! Ma che sei matto che chiudi la gente negli sgabuzzini? Siamo fratelli fino a un certo punto, eh? Perché io so di Roma. Lo sentite il papà? Ogni tanto. E' uno che si fa un po' i cazzi suoi. E' in America. Come faceva a venire? Voglio farti vedere una cosa. Ma che è? Un'astronave. E che ci fai? Vado sulla Luna. E tu veramente vuoi andare sulla Luna con sto scalda bagno? Tu pensi che sono matto, vero? Ma sai la differenza tra gli uomini e gli animali? Il cervello. I sogni. Noi abbiamo sempre qualcosa di grande da inseguire. Non sei la NASA. Sei una persona. Non ce la farai mai. Questa roba è tutta la mia vita. Non ne ho un'altra. E' un'altra. E' un'altra. Grazie a tutti.